Hey yeah, I wanna shoot baby Tra ieri pomeriggio e questa notte sono trapelate delle foto davvero interessanti dal set di Deadpool 3 Tralasciando l'ufficialità del costume giallo e blu, quindi comic accurate di Wolverine e l'effettivo incontro-scontro tra Wolverine e Deadpool c'è una foto che dice più di mille parole Nonostante oggi parleremo di foto, questo video è più da ascolto Questo perché effettivamente ho già registrato questo video anche con la webcam Ma siccome durante l'editing mi sono accorto di alcuni problemi, anzi problemoni, con la registrazione compresa una enorme sezione di ben tre minuti tutta sfocata ho deciso di rifare il video ma siccome è davvero insostenibile ormai registrare con webcam luci puntate e vestiti soprattutto mi scuso ma questo video sarà intanto più breve e in questa modalità Ma adesso direi di passare a parlare almeno per ora del costume di Wolverine perché per quanto mi riguarda spero vivamente che lo cambino con la CGI o comunque con il color grading dipende poi come verrà alla fine del film perché per ora Hugh Jackman a me sembra semplicemente un cosplayer e la cosa non mi piace affatto il costume sembra molto ridicolo essendo così comic accurate con questi colori sparati davvero Adesso capisco per quale motivo per vent'anni non abbiano messo il costumino a Wolverine nella saga degli X-Men della Fox perché veramente spero che o nel film cambi costume subito o che proprio magari Deadpool, cosa abbastanza probabile, lo ridicolizzi a sua volta Dicendo una solida battuta alla Deadpool, non so, magari non ricordo ti piacesse fare cosplay così, roba strana Non voglio soffermarmi sul costume di Deadpool perché sembra pienamente quello degli altri due film a parte qualche piccolo dettaglio come anche i colori in questo caso ma ripeto siamo durante le riprese quindi magari il tutto cambierà con l'uscita finale del film Colgo la palla al balzo e vi dico che probabilmente questo video potrebbe essere spoiler quindi se volete rimanere all'oscuro di Deadpool 3 vi consiglio di uscire magari tornare dopo maggio 2024 sempre se il film uscirà ancora per quella data dato che domani inizierà sfortunatamente lo sciopero degli attori e tornare solamente dopo l'uscita del film, qualunque sarà, per vedere se ho azzeccato diciamo quello che vedremo nel film Vorrei concentrarmi prima sulla location Per quel che so la location sul piano reale dovrebbe essere una spiaggia di Londra spiaggia abbastanza deserta e molto secca direi e sarebbe ancora più deserta se non ci fossero alcuni detriti qua e là Uno di questi detriti è importantissimo, è trapelato da una foto ed è quella fotografia di cui vi ho parlato all'inizio che dice più di mille parole Non vi farò vedere la fotografia per non incorrere in problemi perché comunque questi sono solamente dei leak non ufficiali quindi rubati proprio al set cosa che, attenzione, non è l'immagine di Deadpool e Wolverine che camminano però posso comunque descrivervi questo leak Abbiamo intanto Wolverine e Deadpool con i loro costumi Tralasciamo ovviamente i macchinisti e i produttori coloro che poi nel film non ci saranno Abbiamo la sabbia bianca e arida dell'Inghilterra e soprattutto dietro di loro, dietro tutta questa gente c'è una ricostruzione gigantesca del logo del 20th Century Fox Cosa ci fa quella roba sul set di Deadpool? Per chi non lo sapesse, 20th Century Fox è la casa di produzione che per più di 20 anni si è occupata della pubblicazione e del rilascio del franchise degli X-Men compresi anche i due film su Deadpool usciti nel 2016 e nel 2018 A fine 2018-inizio 2019 la Disney ha ufficialmente acquistato la Fox 20th Century Fox acquistando anche quindi i diritti degli X-Men dei Fantastici 4, di Blade e di Deadpool Questo è il motivo principale per cui nei prossimi anni avremo la nuova formazione degli X-Men e per cui il prossimo anno, sperando, avremo appunto questo Deadpool 3 Ma ancora non si spiega per quale motivo 20th Century Fox, quel logo, è così rovinato ed è così enorme sul set di Deadpool Beh, sappiamo che Deadpool è un personaggio che rompe la quarta parete che scherza con lo spettatore cerca tutti i modi per essere irriverente anche con la stessa casa di produzione che produce il film quindi mi pare ovvio pensare che in questo Deadpool 3 si giocherà molto, almeno in una parte del film sulla morte di 20th Century Fox e sull'acquisizione della stessa da parte di Disney Se non bastasse una scultura enorme del logo di 20th Century Fox in un'altra foto abbiamo quello che sembra il faretto dell'intro della casa di produzione sempre in decadenza, rovinato Ok, è abbastanza ovvio che giocheranno su questo fatto, sull'acquisizione del 2019 ma perché è lì quel logo? Non è la prima volta che in un prodotto Marvel Studios, MCU, Marvel in generale vediamo un luogo quasi desertico se non per qualche detrito quella Per caso ricordate la serie Loki? Credo di sì, anche perché a ottobre ci sarà la seconda stagione In quella serie ci veniva presentata la TVA TVA che poi si è scoperta essere capitanata da una variante di Kang Nella serie la TVA falciava tutte le cose inutili e pericolose per il multiverso o per il tempo, abbiamo capito che nell'MCU tempo e multiverso sono due concetti che combaciano Ogni tanto in modo diverso perché ancora non hanno deciso come far funzionare il loro multiverso Ma ok, siccome è da tempo rumoreggiata la presenza di Owen Wilson come Mobius e della TVA stessa in Deadpool 3 Io direi di arrivare alla conclusione che Deadpool e Wolverine in queste foto dal set si trovano al momento nel Void assieme al logo della 20th century che effettivamente nella realtà è stata eliminata e che si è portata con sé a fondo queste versioni dei personaggi Sono rumoreggiati da tempo anche altri personaggi, la comparsa e i cameo di altri personaggi alcuni sono rumor, altri anche conferme persino da Ryan Reynolds, dalla sua casa di produzione Sappiamo per certo che comparirà Jennifer Garner nel ruolo di Electra bellissimo personaggio tratto da uno spin-off del film di Daredevil con Ben Affleck teoricamente dovrebbe comparire anche questo Daredevil in realtà Poi da tempo si parla anche della vecchia formazione degli X-Men compresi anche Magneto e il Professor X interpretati ancora una volta da Ian McKellen e Patrick Stewart Si parla anche del Gambit, mai realizzato di Channing Tatum e si teorizza anche la possibilità di vedere i Fantastici 4 di Team Story e credo che la lista non si fermi qui prima o poi uscirà anche fuori il nome di un Nicolas Cage fumante Credo di essermi avvicinato abbastanza alla conclusione che questo film, oltre a presentare una presa in giro alla ex 20th century Fox presenterà proprio un collegamento all'MCU tramite la TVA, tramite il Void appunto il luogo dove tutte le cose inutile e pericolose per il multiverso e per il tempo venivano falciate la TVA magari dopo ciò che succede nelle post-credit di Deadpool 2 ovvero Wade che viaggia nel tempo per salvare la sua ragazza per salvare Peter che tra l'altro dovrebbe comparire anche nel film, ecco la TVA falcia Deadpool con tutto il suo universo o multiverso tutta la 20th century Fox, Marvel almeno non credo di ritrovarci magari Alien, Xenomorphic, quella o Predator boh, non lo so anche se con Deadpool tutto è possibile, ma non penso sicuramente il film potrebbe concentrarsi su questa cosa, magari il 90% del film si potrebbe anche ambientare all'interno del Void che si associa anche con il rumor di Deadpool uccide l'universo Marvel adattato all'universo 20th century Fox, quindi magari ci sarà proprio la sfida di uscire da questo Void uccidendo gli altri personaggi con Wolverine possibilmente ci sarà uno scontro più arduo perché è Wolverine tralasciando il fatto che dovrebbero esserci anche più versioni degli stessi Deadpool e Wolverine ma con gli altri, magari un Mr. Fantastic o un Daredevil penso sia anche più facile l'uccisione quindi ci sarà questa sorta di gara, almeno questo è quello che penso tra Deadpool e tutti gli altri personaggi ovviamente il film, credo, potrebbe finire con l'uscita di Deadpool l'unico superstite di questa carneficina all'interno del Void di 20th century l'unico che effettivamente rimarrà nell'MCU con il volto di Ryan Reynolds anche se io spero vivamente che rimarrà un po' nella sua bolla da parte non all'interno di un Avengers The Khan Dynasty o di Secret Wars già questo film sembra un po' Secret Wars anche se sarà un po' più lasciato andare sul comico, credo, sul violento un po' in stile appunto Deadpool anche perché il film sarà il primo film MCU rated R in America quindi vietato ai minori di 18 anni in America qui penso 14-16 anni come sempre ma credo che sarà il primo film così tanto violento dell'MCU magari prossimamente in un Deadpool 4 stiamo andando già avanti con la fantasia ci penserei a inserire qualche personaggio dell'MCU già famoso ma vedere Deadpool in un contesto Avengers o anche in un, magari, un Captain America Civil War ovviamente non letteralmente Captain America Civil War ma avete capito il contesto ecco, non ce lo vedrei così tanto chiudendo quindi, secondo me, le scene, le foto, le immagini che sono trapelate in questi giorni dal set di Deadpool 3 sono ambientate all'interno del Void quello che abbiamo visto in Loki quindi Deadpool cercherà in tutti i modi di uccidere tutti gli altri dell'universo e del multiverso 20th Century Fox per rimanere nell'MCU e lui scherzerà sicuramente su questa cosa per tutto il tempo e gli altri si chiederanno un po' che cosa stia succedendo perché ovviamente non sanno dell'universo 20th Century anzi, sono curioso di scoprire se gli altri personaggi noteranno questa statua gigante questa enorme costruzione del logo di 20th Century o se è una cosa che vede solamente Deadpool io sicuramente sono stra curioso per questo film però voglio sapere anche la vostra quindi scrivete tutto con un commento qui sotto io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine del video mi spiace veramente che sia uscito in questo modo perché io l'avevo realmente registrato audio, video, tutto solo che davvero è venuto male e quando viene così tanto male decido di cancellare tutto e ripartire ma in questo modo, in questo momento a luglio, inoltrato è un po' difficile riregistrare un video di più di 20 minuti vi ringrazio ancora per la visione e niente, io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao